Grazie mille, lo sapete ormai mi conoscete, io mi faccio trovare sempre pronto. Le ultime 4-5 partite ho fatto completamente un altro ruolo, sono tornato ad agire da mezz'ala, ovviamente in maniera più offensiva, con più spazio davanti, mi trovo bene, sono contento comunque di... abbiamo preso un buon punto, però potevamo sicuramente vincerla. Sicuramente dispiace aver preso il gol nel secondo tempo, perché credo loro nel primo tempo, comunque affrontavamo una grande Sampdoria, una Sampdoria in forma, in un momento positivo, quindi non era assolutamente facile. Ci hanno messo un pochino sotto il primo tempo, però nel secondo tempo credo è uscito completamente il vero Benevento. Potevamo sicuramente fare il 2-0, se non il 3-0 con tante occasioni. Purtroppo quando poi le reggite del calcio sono quelle, quando non si fa gol, è probabile che lo prendi. Quindi abbiamo preso gol in quel momento e abbiamo portato a casa un punto, si rammaricati, però comunque siamo tornati ad essere compatti, coesi in tutti gli spazi del campo, quindi dobbiamo lavorare così e pensare a venerdì con il Bologna. Credo di sì, non ho parlato col mister, però conoscendolo da due anni, comunque a partita in corso, una partita anche sul vantaggio. Dopo il pareggio tenere in campo tanti ammoniti è un rischio. Lui quasi sempre lo fa, credo sia anche giusto, però comunque chi è entrato ha fatto bene. Purtroppo abbiamo preso gol, ma bisogna, ripeto, bisogna lavorare e continuare così. Veniamo da un momento dove mancavano tanti giocatori, adesso stanno rientrando un pochino tutti, abbiamo visto Viola in campo. Dobbiamo solo continuare perché abbiamo un grande gruppo e grandi calciatori, dobbiamo lavorare su di noi, non sugli altri. Il Benevento nel primo tempo era un Benevento un po' più basso, ha subito un pochino la Sampdoria, nel secondo tempo sono uscite le nostre qualità e abbiamo messo sotto un'ottima Sampdoria. Purtroppo quando la palla non entra, scelte che possiamo sbagliare tutti, purtroppo è questo il calcio, se la palla non entra rischi di prendere gol e pareggiare partite che puoi vincere. Dobbiamo solo lavorare su di noi, ripeto. Sì, sono d'accordo, soprattutto in questa categoria dove negli ultimi 20 metri c'è meno spazio e tanta pressione, partire da dietro sì, mi trovo meglio e ci sto lavorando tanto. Ovviamente quando nelle ultime partite ho fatto il quinto, ho giocato anche terzino, è ovvio che in fase difensiva soffro un pochino di più perché comunque non l'ho mai fatto, però giocando da mezzala più avanti e sfruttando le mie qualità mi ci trovo molto bene. Gennaro, purtroppo siamo sempre lì, nel senso che quando si arriva tante volte lì davanti c'è capitato a Sassuolo, c'è capitato con il Milan, c'è capitato in questa partita, quando fai tanti tiri e la palla non entra c'è sempre un motivo che a volte può essere sfortuna, a volte può essere un po' più di Gazzim, a volte ci vuole un giusto mix, poi la palla entra e può anche non entrare, quindi ripeto, dobbiamo lavorare, magari in settimana lavorare di più sul gol, sulla fase offensiva, ognuno di noi sicuramente arriveranno i risultati, però dobbiamo continuare così perché la cosa importante è prendere meno gol più che farli. Un po' più contratta credo di no, perché noi lavoreremo sempre su di noi, come ho detto, però sicuramente il giorno di ritorno è un altro campionato, tante squadre che sono anche sotto di noi si sono rinforzate tanto, hanno fatto un ottimo mercato, noi abbiamo preso due grandi calciatori, dobbiamo continuare a lavorare perché il campionato è lungo, sotto ci sono squadre che sono sempre state abituate a stare più in alto, non lì giù, quindi dobbiamo continuare a macinare più punti possibili per arrivare alla salvezza.